Tutto ha inizio nel 1954, quando Magigas compare per la prima volta sulla scena commerciale della Toscana e di Pistoia in particolare. L'inizio della nostra attività è concentrato sul mondo del GPL, poi successivamente Magigas si è cominciata a occupare di prodotti energetici in senso più lato, come gasoli, benzine e prodotti per l'agricoltura e tutto quello che è legato ai prodotti energetici. Nelle anni 90 abbiamo cominciato a interessarci ai prodotti speciali e per prodotti speciali sono i carburati per l'aviazione, i carburanti da competizione, le benzine speciali e gli additivi. Tutti questi prodotti vengono fatti, realizzati internamente ad eccezione dei prodotti aviazione, a seguito di studi dei nostri tecnici e poi naturalmente vengono testati, vengono provati a banco e successivamente messi in commercio. Una precisazione che va fatta è che tutto questo iter produttivo viene eseguito nel rispetto delle norme di qualità e sicurezza, esattamente le norme ISO 9001 e ISO 18001 che fanno rispettare tutta una serie di attenzioni sia per quanto riguarda la qualità del prodotto e sia per quanto riguarda la sicurezza dei lavoratori e del prodotto specifico che deve avere caratteristiche di sicurezza.